CRIMINAL 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 UUUUUUUU Niente che noi manco l'occhio e picchiangere CRIMINAL 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 io so lo scherzo roschi e non toccio parlare mango bono io so lo scherzo 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 su un'area dei russi stessi giochi secondo me c'erano no gioia è rimasto così ho questa spamma con le macchie questi smagrano gioia fermati qua anzi non so un'area 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 un po' di flasso un po' di flasso già come quando il gioco mi ha sempre usato il verbato della situazione non mi ha capito che ci sono difendere qua, non ci sono soltanto niente capimino oh che ha giudato oh c'è un solo sopra, no quello è strano ma cosa c'è un solo sopra? è anche sparato stavo dietro non lo capiamo arrivo pure un frocio da qua frocio cammello non vieni fermi ehi, fatti nel muro non lo sapevo meglio che non riesci mai a guidare lo sito oh no lo sapevo pezzo di melma come fa? sta bavito? no no sta proprio con la norma che ci consiglia minchia quello fa male guaglio questo smagra oh citta che non spara normale vuole quanto male mamma mia freschino grazie per il follower benvenuto in live caro buongiorno come stai? infinite buongiorno va la c***o a gioco va la c***o mi ha fatto la cerchetta qual è il buon Natale? fammi la parola che no troia non ti puoi stare stai voglio qua davanti a me la metastrada no 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 è 85 siamo stessa mosca si 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 è morto no 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 arrestato c'è stanno c'è stato uno proprio sopra di teccio sono due sopra il terrazzino porco dius il macro del caso c'è c'è muore eh giustamente un solo colpo bello ciò non 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 è morto no ma scuola porco dio ha già cattano pc al boss faccio la soluzione il contatto qua quello criminale non mi ricordi è il mostito fit colpino shot che voglio è ma io stavo lontano ma gioco bufò va a tirare l'occhio in un becraccio ah so close ora già dentro arriva all arrivando la sua strada oddio santa va che è il pistor su un mitragliere buf la 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 due davanti a me apri 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 no 3 sono 3 sono 3 sono 3 ero ditemi un contatto criminale mi ricordo anche no no sono due forse tre dentro ok l'avete ucciso il mio ammok ma giocavato voglio questo sotto è un contatto criminale prima da qua sbagliato lo spawn messo vado da sopra no 1.85 è il dukkangok non so che aveva la stabba sciamaronne chi sto quello con la stabba mi sto non so che non so che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai da l'ho, vai da l'ho. Un altro l'ho. Dietro, ma lì, dietro, dietro, dietro. Ma è entrato. No! Ma perché? 1,85 appena aperta la porta. 1,85 appena aperta la zona d'acqua, comunque da nord. 1,85 appena aperta la porta. 1,85 appena aperta la porta. Ma il silver che fa? 1,2,8, niente, insomma. Bella, 44. Aspetta, 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 aspetta. È 85 quello con il PMG. È entrato dall'altra parte, va bene, ma l'hai visto. F***ing pieno. Mannaggia, mamma, addio puttana. Ragazzi, la pigliatela è scappata. Eh, il problema è pigliarla. Eh, l'ho toccata. Eh, non, niente. Andiamo insieme, la cominciamo a fare una moto. Eh, l'ho detto aspetta, l'ho detto aspetta. E ancora detto 85. Mamma mia, lo silver che fa la battaglia, porco zio, sparata fuori da 30 metri per farsi spottare. Ma perché andaccina a destrazzo di silver di me? Allora, abbiamo un paperino, un papalino. Shut the fuck up. Questo mi ha rotti i coglioni. Oh, questo f***ing guy. Prima mi fa, prima mi scrive meno mm, dopo pigli e mi ignora. Allora pigli e lo ignora, ma cari, ma rotta la m***a. Scusa, questo f***e stupo. QL. Che fa? Prima mi scrive e poi mi ignora. Da scrivi, se c'è da una mamma so. M-m-m... M-m-m. Vai, explosive. OPCL, purciase, cappa fai dai chiuno che ho potremmo ok ma perchè, ma perchè GG o più con gulingiata la c'arac nuca a roto un culo Andra cosa succedete Go out there, throw the shiit upside down that's what it's all about Non c'è un città, guardate, è tutto. Anziti, questo dicono che è città. Anziti. Anziti, attacca, 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 attacca. Anziti, attacca, 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 attacca. Anziti, attacca, attacca. Sì, attacca, attacca, attacca. ma perché sei salita si è sceso se salita si è sceso si è sceso io me ne volevo andare eppure io lo stai rifando e colpa e sacrifano saltava avanti e davanti a me per farsi il circo ah ma già così ecco poi fai a zuccava da avanti ah ma di girare su stradale ma non è eh cosa ho fatto retromarcia Ho fatto le tramarce Le tramarce e suicidio il campo La bomba Maria è qua aiuto Andiamo 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 eh Vai qua Maria Hai girato la granata Amore 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 Andato a fare On my way On my way On my way No 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 Non ma 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 quando sarà fatto da tutti i concili per citerci ma vabbè ma sia ansiedi quello la colno accanto voglio forti a finché questo gioca veramente da te non siete nella porta i am malo capta oh che stiamo a cercare se no c'è l'inbo non c'è mi fa don't kill me allora ti affare questa terza partita non c'è, non c'è non c'è, non c'è io l'ammazzavo allora ci avrò che mi ammazzavo l'innozzo e potrebbe in giro è da qua dentro è 85 non vede che stai facendo niente stai dando la partita manco io non ho capito è ancora che mi dice stop però non mi dice perché non mi ricevo il credito di una città ammazzo sta merda ma io io dico basta livello livello nuovo tipto tipto tappato un petto e si ne ha fermato io basto io fermiamo a pb ma io mi fermo prova e ne vado a dormire alle 10 essi è già ragazzi grazie per il seguimento spero che ti piacciono e vedete la prossima volta buona notte, buona notte, buona notte